La crisi umanitaria provocata dal conflitto è arrivata anche alle porte del Biellese e in arrivo sicuramente moltissimi cittadini che scappano da quell'inferno. Le azioni in questo momento devono essere veramente condivise e coordinate. Lei ieri ha partecipato ad un incontro in Prefettura. Che cosa è emerso? È emerso quello che in linea di massima ci aspettavamo, cioè che i canali con i quali queste persone devono accedere nel nostro Paese, che verranno sicuramente ospitate e accolte, sono però quelle istituzionali. È comprensibile ed è una cosa meravigliosa che si sia attivata la popolazione dalla raccolta di beni piuttosto che alla disponibilità di mettere a disposizione delle proprie unità abitative. Però dobbiamo ragionare con calma per più motivi. Primo perché chi proviene da un conflitto deve naturalmente entrare nel nostro Paese che accoglie secondo però le regole e quindi le conseguenti denunce presso la Questura per quanto riguarda tutta la documentazione, perché sono persone che resteranno probabilmente nel nostro Paese. Poi dobbiamo appunto ragionare sul fatto che sono persone che resteranno nel nostro Paese per un periodo lungo, non tanto perché il conflitto possa durare a lungo, ci auguriamo tutti di no, ma perché naturalmente scappano da città che in questo momento sono state distrutte e quindi bisogna ragionare su un lungo processo. Con la Prefettura abbiamo ragionato naturalmente sull'accoglienza istituzionale, quindi sul CAS e sul SAI, cioè che sono sistemi nazionali di accoglienza che sono stati riattivati dal Governo attraverso il decreto e che verranno implementati perché è stata comunicata alla Prefettura necessità di implementarli e quindi tutte le strutture già predisposte faranno la loro parte. Poi ci sarà sicuramente una parte della cittadinanza che farà un'accoglienza, definiamola privata, e benvenga, che però deve seguire appunto certe procedure, cioè chi accoglie deve denunciare entro 48 ore che sono arrivate delle persone e queste persone devono recarsi entro 8 giorni in Questura, proprio come dicevo prima, per tutta la parte di documenti e le registrazioni, perché sono persone che poi devono avere tutti i diritti che abbiamo noi. Il Governo ha già chiarito che indipendentemente dal riconoscimento immediato dello status di rifugiato, queste persone avranno tutti i diritti che gode un cittadino sul nostro suolo. Senta, sul nostro territorio si sta ragionando anche su una mappatura dei siti che potranno accogliere perché, insomma, si presume che arrivare anche nel Bielese è un numero importante. Sì, si sta ragionando su una mappatura, nella realtà sono iniziative comunque estemporanee, anche di strutture pubbliche, è giusto che lo facciano perché almeno in questo modo si ha un'idea in generale di quante strutture possono essere a disposizione. Ora stiamo anche ragionando come Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la parte piemontese, di aiutare i vari comuni nel recepimento della disponibilità, perché la Regione ha aperto appunto un sito nel quale fare confluire sostanzialmente tutte le disponibilità e quindi tra più strutture cerchiamo di darci una mano per avere una mappatura. Ci aspettiamo sicuramente quando c'è un conflitto alle porte di casa, ci aspettiamo un flusso importante di persone in forte difficoltà.